Buonasera Salvini, allora... Pace, bene, pensiamo alla pace, pensiamo a quello che ho visto, ho incontrato preti, infermieri, mamme, nonni delle mamme e degli infermieri. E' stata un'esperienza però che... Quindi la pace è la base di tutto. E io mi auguro che anche altri politici incontrino mamme, nonni, preti, predicano la pace. Che si sono divertiti a prendermi in giro, comodamente seduti sul divano, sulle poltrone, sui tavolini, sui gabelli, sulle sedie col bracciolo rotto e vadano in Bologna a portare la pace come ho fatto io.